Ottimo. Buon pomeriggio a tutti. Grazie dell'attenzione dopo pranzo. Cercherò di non annoiarvi troppo. Parto bene, non sto scherzando. Cercherò di tenerla il più interattiva possibile. Non fatevi problemi a fare domande e intervenire. Il topic di oggi, questo che ho preparato, è una, come forse avete letto dalla descrizione, una storia di evoluzione, evoluzione di management all'interno dell'azienda dove lavoro. Praticamente, per farla breve, è cinque anni fa ho iniziato a lavorare come manager, gestore di persone in questa azienda, con un background che di management non aveva proprio nulla, perché ingegnere, telecomunicazioni, dottorato, tutto quello che volete, però gestire persone è un po' un'altra cosa, come sapete. Che cosa aspettarvi da questo talk? Sicuramente esperienze di vita reale, quindi qualcosa che ho vissuto in prima persona con il mio team. Sicuramente un approccio in prospettiva, quello che oggi posso dire, ho sbagliato negli anni scorsi, e vedremo subito l'approccio iniziale che ho avuto, e il feedback da persona che ha visto applicare, ha voluto applicare, si è impegnato ad applicare determinate tecnologie, strumenti, il feedback su come poi effettivamente siano andati, cioè come siamo stati percepiti, se le persone hanno vissuto positivamente o negativamente queste cose. Cosa non aspettarsi da questo talk? Una lezione di management, sicuramente, perle di saggetta, sbaglio, posso sbagliare, sicuramente voi questi concetti li avrete già visti, ci sarà chi li ha già visti e dice no, secondo me è diverso, ok, parliamone, facciamo una discussione costruttiva, volentierissimo, ci sarà chi magari è nuovo e queste cose le ha vissute, ma non ne ha magari lette sotto questo punto di vista, anche come collaboratore, non come leader. E sicuramente non aspettatevi analogie storiche precise. Questo lo dico perché adesso farò un'analogia abbastanza forte sul primo mio stile di management e questo non è proprio preciso, perché all'inizio facevo un micro-management. Chi di voi sa cosa vuol dire micro-management? Alzi la mano? Ok. Micro-management vuol dire gestire le persone che vi stanno nella visione piramidale, vi stanno sotto, voi le gestite, magari anche troppo, cioè fate il loro lavoro, gli dice fate questo, fate questo, fate questo, tutti gli step minimi che la persona deve fare e quindi di fatto la persona la opprimete perché non deve decidere nulla. Tutto quello che gli dite di fare è quello, non volete che si sposti di un millimetro, praticamente state facendo il loro lavoro e loro sono dei meri esecutori. Quindi, tra un micro-manager e quello che vi sto per far vedere, c'è un paragone storico abbastanza tirato, il faraone. Io sono il manager e non avrai altro faraone al di fuori di me. Quindi questo è il punto di vista, se vogliamo, molto altestoso, molto sulla luna che uno può pensare di avere quando magari è messo a guidare delle persone. Sono il manager di queste persone, quindi ho pieno controllo su di loro? Forse no, ma che cos'è questo faraone? Pensa di essere infallibile, è quello che dico io, ho ragione perché ho più esperienza di te. Sono ossessionato dal controllo perché voglio sapere esattamente cosa fai in ogni minuto, quindi ti chiedo email di aggiornamento ogni giorno, ogni 20 minuti. Dimmi cosa stai facendo. Vedo che parli con l'altra persona? No, non parlare con l'altra persona perché devi fare quel task lì. Non delega le decisioni, soprattutto. non si fida di nessuno, quindi questo è quello che risulta. Non delego perché non mi fido, non mi fido delle decisioni che gli altri potrebbero prendere. Comanda attraverso la simmetria informativa, quindi io so tutto, ho la visione globale di questo progetto, a te, mio collaboratore, chiamo nel mio ufficio, ti dico i quattro dettagli, poi vai a farli, torna quando hai finito. Quest'ultimo è un po' caricaturale, ma si aspetta devozione, cioè no, perché non è così, no, è così, adesso vai là a fare il lavoro. Non è che io fossi proprio così, ok, però ho un attimo esagerato per farvi capire. Ma che cosa succede dal punto di vista dei lavoratori, dei vostri collaboratori? Obscurity, cioè praticamente ognuno vede solamente il metro successivo, va nell'ufficio, parla con il leader, chiamiamolo leader anche se non guida molto, e poi torna nell'open space, la situazione nostra è open space con 5 per 6 persone e un altro ufficio separato dove potrei stare io, per esempio. Ciascuno vede solo la sua fettina, torna nell'ufficio con gli altri, che hanno la stessa situazione, secondo voi parla con gli altri? Primo non sa cosa sanno, secondo non sa se lo devono sapere, terzo quello che so io lo vorrei tenere per me perché magari gli altri non lo sanno. e quindi ho un vantaggio, perché qual è il mio reale obiettivo? Il mio reale obiettivo in questa situazione è o me ne vado oppure cerco di fare contento il capo, tecnicamente, perché di fatto è il mio unico punto di riferimento. Chiaramente è un incubo lavorare in questa situazione, oltre ad avere altre questioni. Chiaramente, dando alle persone solamente la strada, il prossimo passo, loro fanno, se va bene, fanno quel prossimo passo. non è che gli dite stupitemi, stupitemi con il lavoro di questa settimana, come vedremo magari dopo. Mi manca la visione di insieme come collaboratore, non riesco a vedere dove sta andando il progetto, il team o l'azienda, non ne ho la più pari d'idea. Faccio quello che mi serve per far contento il mio leader. quello che si viene a creare sono tanti giardini, ognuno tende a ritagliarsi i suoi giardini, quindi se sviluppo codice che funziona bene, me lo tengo per me, perché così è un vantaggio. Chiaro che è tutto distorto, ok? È tutto distorto dalla guida. Remarks. Andare a fare un tipo di management di questo tipo ha senso in qualche situazione, mai, o è totalmente sbagliata? Se è una situazione di emergenza, arrivo con un nuovo team che non conosco, che non si fida di me, attenzione, se dobbiamo arrivare in fondo alla prossima settimana, ok, però ha degli svantaggi molto forti. Nel lungo termine la gerarchia, e poi in questo caso è proprio fortissima, cioè io sono il capo, e voi fate quello che vi dico, e vi dico nel dettaglio cosa fare, quindi non vi divertite neanche, perché non create nulla di nuovo. E quindi stabilire una relazione di fiducia con quei collaboratori è veramente difficile. E l'altra cosa è che diventa ancora di bottiglia il leader in questo caso, perché non si fida, perché vuole approvare tutte le decisioni. Il punto di vista dei clienti, ok, dato che il farone, o il leader in questo caso, è uno e decide tutto lui, o sono pochi clienti grandi, o se come nel nostro caso abbiamo tanti clienti piccoli, diventa il colo di bottiglia al giorno dopo. Quindi solo i clienti più importanti per lui hanno un servizio che è effettivamente soddisfacente. In prospettiva, cioè questo dovrebbe essere il faraone visto dall'altro, che in realtà non è altro che nulla, quindi siamo molto bassi, perché, non è che, ripeto, non è che fosse proprio così, però alcuni tratti venivano da lì guardando in prospettiva. Perché, visto che non ha tutti questi vantaggi, mi comportavo in questo modo? Fondamentalmente non avevo esperienza, ma anche avevo paura di perdere il controllo. Comunque, essere in quella posizione, o responsabilità, aiuto, cioè, voglio essere sicuro che siano fatte come dico io, perché come le faccio io, mi fido di me stesso, è ok, degli altri, no, va bene, però, visto che si cresce, si impara, si ascoltano le persone, e magari si diventa alcol di bottiglia e si esplode, perché alla fine quello succede, cerchiamo qualcosa per lavorare meglio, in modo più efficiente. Quindi, facciamo un level up, questa esperienza, questa ascensione. Primo step, ho cercato di strutturare i vari elementi che poi portano all'arrivo, in modo da darvi degli spunti di ragionamento. Primo step, trasparenza, quindi obscurity versus trasparency. No tabù, non ci devono essere tabù in quello che si dice alle persone, cioè, se le cose, chiaramente, se sono aspetti personali, ne parlo con la persona e basta, ma altrimenti, se riguardano il team, i progetti del team, ok, parliamone con la persona, ma senza, visto che non è un argomento privato, magari ne parliamo direttamente nell'open space. se gli altri devono, avevano una scadenza, si mettono le cuffie accese, se non interessa e vogliono fare vedere che lavorano, se le mettono spente, comunque, se vogliono intervenire, intervengono, intanto sentono, sanno cosa sta succedendo e magari dopo commentano con la persona, perché altrimenti l'aspetto di avere tanti recinti di informazioni chiuse non va bene. Qual è l'aspetto un po' da gestire? È che, se si è in open discussion, chiunque può potenzialmente intervenire, quindi bisogna essere pronti ad affrontare le discussioni e a mettersi in gioco. Quindi da essere, magari, visualizzarsi in cima a una piramide, visualizziamoci dentro un cerchio, siamo nell'ufficio, nell'open space e parliamo con le altre persone che possono dire quello che vogliono, non è che poi si va a dire no, tu non puoi parlare perché non c'entri, assolutamente no, ne parliamo, discutiamo, poi bisogna dirigere la discussione perché bisogna arrivare a delle decisioni in un certo tempo, però l'importante è far passare il messaggio che ciascuno può contribuire a migliorare il team e il lavoro del team. L'ultimo punto, condividere anche considerazioni di business perché pur avendo un team tecnico questo sta lavorando a un progetto business evidentemente e non è sempre chiaro come viene generato questo revenue, questo profitto, quindi già far entrare nella testa delle persone queste cose fa capire anche per esempio le priorità tra i vari progetti. I vantaggi sono evidentemente che rimuove la segregazione delle informazioni, è una cosa questa che viene percepita dal team immediatamente perché così come viene percepita oh guarda chiama quella persona nel suo ufficio poi torna e non si sa niente quindi c'è un'atmosfera di mistero bene ne parliamo è tutto chiaro quello che ci diciamo è qui se avete domande ci siamo quindi ne parliamo e non è un atteggiamento di chiusura e dal momento che tutti conoscono la situazione poi magari dicono sì va bene ma è capitato più volte questo ultimamente ma quella cosa lì l'ho fatta io due anni fa magari non ci ricordiamo adesso potrei farla io visto che avete adesso un momento di sovraccarico e lo dice in automatico senza che venga in mente a nessuno perché c'è questa circolazione di informazioni chiaro che funziona con un team 4, 6, 8 persone massimo di più poi si crea troppo confusione nell'open space però con gruppi di questo tipo sì step numero 2 comunicare le informazioni e lasciarle visivamente sempre a disposizione di tutti quindi visual communications whiteboard su due o tre pareti usare quindi questi strumenti per pubblicare informazioni ma che informazioni chiaramente è quello che c'è da fare ma non solo non solo attività tecniche come dicevamo prima quindi anche qualcosa sull'effort e sul budget quindi a che punto siamo rispetto al totale di ore che abbiamo messo da contratto su questa commessa bene si sa e lo vedono tutti se è un progetto in ritardo lo vedono tutti se io ti chiedo aiuto e lavoro a un progetto in ritardo sai che hai in priorità e sei più lo fai più volentieri lo fai perché sai che fa bene al team non dici sì ma io devo finire la mia cosina che non serve a nessuno perché è un'attività di manutenzione che non ci hanno chiesto però la devo finire non ti aiuto calma e anche informazioni sull'invoicing e sul payment per esempio finiamo quel lavoro perché vorrei sollecitare il cliente al pagamento visto che quindi visto che è arrivato il momento di pagare quindi allineare gli aspetti amministrativi a quelli di business a quelli tecnici ultimo competenze ok la lavagnetta con competenze di ciascuno questo serve per i nuovi arriva una persona nuova e sa chi sono gli esperti o quanto sono esperti nei vari campi l'obiettivo non è dire arriva una nuova commessa chi la fa la fai tu perché sei il più esperto ma sapere e costruire quindi in un'ottica di trasparenza quali sono le competenze di ciascuno anche per individuare dei buchi dei buchi che magari c'è solo una persona che sa quell'argomento lì bene aspettiamo facciamo lavorare questa persona nuova su questo argomento così abbiamo un backup riduce il bisogno di coordinamento meno meeting possibile perché i coordination meeting hanno il time multiplier che porta in via tempo a tutti quindi ne facciamo il meno possibile però vanno fatti tra le persone che devono lavorare e soprattutto cerchiamo di fare direttamente in open space se il team è piccolo e le competenze i progetti o ciascuno può dire qualcosa sulle varie commesse perché comunque le conosce e le ha sempre sentite passare bene fare in open space parlando piano evidentemente step 3 sviluppo agile con metodologia a box quindi niente di nuovo tutto questo è quello che avete già visto e vedete continuamente c'è anche nell'altra track quello che facciamo è praticamente la chiave è il meeting di coordinamento dove decidiamo che cosa fare in quella settimana e ciascuna persona interna è responsabile di uno o più progetti quindi responsabile interno e quello che fa è prendere il commitment sui task da fare con la settimana e quindi poi si interfaccia anche con il cliente in realtà c'è lo step intermedio che è abbiamo un responsabile interno poi magari il contatto lo gestisco ancora io con quel cliente per poi passare direttamente il contatto alla persona tutte le mattine stand up meeting per fare il punto e sbloccare eventuali situazioni chiaro che partecipo anche io a quelle perché magari devo sbloccare delle situazioni anche il lato amministrativo e quindi è bene che ci sia anche io ciascuno può fare la differenza in questo modo perché si ha la settimana di tempo per dire ok stupitemi su questo commesso portatela a fondo fate contento cliente non vi dico io cosa fare nel dettaglio ci pensate voi e se c'è un problema a gestire un'eccezione a gestire tirate sulla bandierina vi contattate e vediamo di gestirla assieme quindi è il ruolo del leader che si sposta a supporto supporto che viene fatto ancora più forte nel quarto step quindi mettere in condizione le persone di prendere decisioni perché chi è la persona che è nella migliore posizione che ha più informazioni su quella commessa sul cliente per prendere decisioni se non la persona che tutti i giorni ci lavora interagisce con il cliente e con gli altri membri del team quindi l'importante è far crescere le altre persone e fargli percepire che crescono perché se le persone non crescono poi si annoiano lavorano male e alla fine poi cercano altro evidentemente col faraone era immediato qui comunque nel medio termine se uno non cresce cosa sto facendo cioè siamo siamo all'inizio della carriera tempo fa questo è un aneddoto di due secondi ho fatto durante una sessione di coaching dove c'era una persona che mi chiedeva feedback cioè faceva coaching a me quindi ho detto raccontavo di cosa sto facendo in questi anni tutto il percorso che sto facendo e mi ha detto ma tu sei all'inizio della tua carriera io ho 35 anni e mi si sono detto è vero sono all'inizio della mia carriera quindi adesso io voglio crescere prima magari la mia ottica era bene sono arrivato sono responsabile di area di un'aziendina bene facciamo crescere l'aziendina sì bene facciamola crescere ma se non cresce poi visto che sono all'inizio della carriera ragioniamo quindi il voler crescere è una cosa che viene fuori prima o poi ma viene fuori sicuramente e in questo modo si cresce tutti assieme in maniera organica l'ultimo punto è fondamentale quindi da guidare a facilitare per far questo bisogna ascoltare perché spesso uno parla dice gli escono un sacco di cose ma non ascolta e quindi quello che succede è poi una divergenza con i membri del team e questo nel anche questo nel medio termine provoca conflitti quindi la difficoltà del fare questo è ok io leader io che ci metto la faccia io che ho questi clienti li ho portati avanti per tre anni secondo me sono contenti devo passarlo a un'altra persona che ha meno esperienza di me ok evidentemente avrò paura di deluderla deludere il cliente non è facile non è facile soprattutto l'altro aspetto può essere andare a vedere chi dei vostri membri del team ha magari certe peculiarità che non siano migliori o peggiori ma si abbinano meglio a quel tipo di cliente c'è il cliente più apprensivo c'è quello che si sveglia dopo tre mesi che è in silenzio e esplode tutto quindi quelli vanno tenuti pingati continuamente quello apprensivo va un attimo un attimo calmato sotto sedativo è importante quindi capire le soft skills perché dico soft skills di nuovo perché un'altra delle cose che va sempre di pari passo con la trasparenza avete sono tanti building blocks che devono combinarsi sinergicamente se no è un problema problema perché non si ha il massimo effetto quindi soft skills sono quelle caratteristiche soft che uno ha per esempio il saper comunicare il saper essere un influencer rispetto agli altri senza magari guidarli piuttosto che essere un leader e anche per ciascun membro del team quello che abbiamo iniziato a fare è dargli una sorta di assessment di queste skills fatte dagli altri membri del team quindi ogni trimestre chiediamo di compilare un questionario un google form in cui ciascuno valuta gli altri valuta gli altri nel senso questa persona secondo me comunica bene questa meno questa ha mostrato leadership mostrare leadership vuol dire ok sono responsabile di un progetto ho fatto in modo attivamente di coinvolgere le persone che lavorano al progetto e di fargli ottenere risultati questo soprattutto all'inizio a chi non è abituato a ricevere feedback uno dice aiuto mi valutano quindi cosa succede innanzitutto bisogna far capire che questo serve per far crescere il team perché magari ci sono degli blind spots degli aspetti di una persona che non vengono fuori perché io pensavo di essere il comunicatore invece mi dicono che sto sempre nel mio mondo capitano anche queste cose e aiutano a migliorare ma soprattutto e c'è anche una questione di incentivi di team qui ho messo i soldi in realtà i soldi sono uno dei fattori più bassi ma volevo un'immagine stereotipata per darvi il concetto il concetto degli incentivi di team è intanto il team si autovaluta e gli obiettivi non sono tecnici in questo caso ma legati al business tutto questo è possibile se avete dato trasparenza agli aspetti di business in precedenza cioè se le persone sanno come gira l'attività del team quanti clienti ci sono quanto si sta fatturando quanti sono i costi è chiaro che ci vuole molta trasparenza e molta volontà di condividere anche il valore che si riesce a creare con le altre persone perché altrimenti uno non potrebbe mai fare questa cosa in un atteggiamento di obscurity perché a quel punto si inizia a girare voce tradizione orale no attenzione non si sa cosa succedendo c'è questa fattura qua ma se puoi fattura lui prende i soldi io no attenzione quindi la torta è determinata in base a obiettivi di team la redistribuzione viene fatta basata sull'assessment mutuo tra le persone quindi a quel punto esempio si potrebbe fare ho un numero di gettoni tale che non possa essere diviso equamente tra le persone perché comunque bisogna far sbilanciare un attimo perché altrimenti uno eh sì tutti uguali così ciascuno potrebbe dire così ho un numero di gettoni e devo assegnarlo alle persone quindi questo è un po' più bravo dell'altro nel senso che ha contribuito di più agli obiettivi del team in quel in quel quarter quindi questo tipo di cose creano un'atmosfera del tipo siamo tutti sulla stessa barca magari c'è qualcuno più al timone degli altri ma siamo tutti sulla stessa barca quindi diamoci una mano e il fatto di avere una parte del rischio di business grazie agli incentivi poi chiaro che c'è un commitment più grande se volete leggerlo al contrario abbiamo più responsabilità è giusto che prendiamo più fetta della torta di valore creato ci vuole tempo ci vuole tempo abituarsi a questo soprattutto i primi sei mesi ok perché a cosa serve ma io voglio fare le cose tecniche no attenzione ragioniamo tutti insieme e ripetendo questo concetto poi devo dire che è entrato nel modo di ragionare infatti dal mio punto di vista adesso è molto più va molto più in autopilot cioè ci vediamo una volta a settimana ragioniamo faccio così va bene sì va benissimo mi aspetto in futuro ok faccio così se non va bene fammi sapere qualcosa entro due giorni o un giorno o stasera quindi la fiducia sulle persone poi aumenta di conseguenza quindi andando verso la chiusura due slide poi ho finito quindi mettendo un po' insieme tutto cercando di estrarre quali sono i punti chiave secondo me per questa evoluzione dal faraone a qualcosa a cui non ho trovato un nome ma guerrilla warfare sono questi gruppettini che vanno a fare guerriglia gruppi di soldati vanno a fare guerriglia senza una testa quindi senza una testa che li coordino in modo stretto perché loro hanno le linee guida sanno come devono lavorare hanno gli obiettivi precisi e quello poi come raggiungono l'obiettivo sta a loro quindi questa l'ottica è quella di rilasciare tutte queste questa linea di controllo che tiene stretta il lavoro delle persone ma dall'altra parte poi limita il throughput del gruppo per andare a crescere tutti assieme e per far questo visto che il fattore limitante è il tempo persona del leader quindi tutte queste strutture create vanno a creare un fabric un tessuto tessuto all'interno dell'ufficio visibile e invisibile di linee guida di strutture di visualizzazione anche di cultura di cultura aziendale che gli permette di esprimere potenziale mantenere i meeting a un minimo in modo da avere tutto anche farli nell'open space in modo che tutti sentano e condividere tutti gli aspetti di value creation perché una cosa che cioè aver paura di condividere poi non vi fa ottenere la cosa bella di condividere che è ottenete feedback che non vi sareste aspettati e soprattutto mai smettere di cercare miglioramenti anche piccoli piccole modifiche al modo in cui si vengono mostrate le informazioni tutto è un test un trial and error quindi partendo da un team di io più due persone negli anni abbiamo avuto evoluzioni adesso siamo cinque persone ogni settimana facciamo un meeting come vi dicevo per settare priorità attività e abbiamo cinque persone dodici progetti che portiamo avanti in parallelo chiaro che noi vorremmo metterli tutti questo dura tre settimane poi è finito sì va bene tre settimane fase attiva e dopo in manutenzione chiusura e poi chiamo al cliente se non si chiude però di fatto è fisiologico quando si hanno tanti progetti che alcuni durino lungamente nel tempo quindi magari bisogna essere in grado di gestire anche questi e nella mia testa non ci entrano tutti questi progetti da gestire in parallelo è bene che sia una gestione decentralizzata per alcuni è fatta proprio in autonomia dalle persone e poi ci aggiorniamo una volta a settimana il tempo mi sa che è finito finito esattamente e quindi io vi ringrazio c'è tempo per una o due domande grazie volevo un pochino mettere in dubbio quello che ci hai mostrato apparentemente a me sembra un pochino un metodo in realtà un po' disorganico e anti-organizzativo quello che tu proponi certo anche se molto coerente in realtà come lo dice poco inopinabile lo trovo disorganico perché appunto come hai detto un po' alla fine è senza testa cioè nel senso nell'organizzazione organica in genere si dà per scontato che c'è un centro che organizza tutto è come te ora stai parlando perché si presume che tu sia guidato dal tuo cervello e non contemporaneamente dal tuo fegato dal tuo intestino dai tuoi piedi il tuo naso e lo trovo un po' anti-organizzativo perché questa storia di mostrare tutto cioè di non avere tabù mettere in realtà i tabù servono anche per mantenere una certa coesione sociale perché anche tu in questo momento ti poni di fronte a noi rispettando i tabù cioè ad esempio non stai facendo la conferenza che ne so nudo sei vestito in un certo modo ti presenti in una certa maniera e anche questo voler sempre diciamo mostrare tutto va contro un altro comportamento organico che è quello della memoria che si pensa sempre sia una cosa che serve per ricordare ma anche per dimenticare perché altrimenti se ricordassimo tutto credo saremmo bloccati nell'agire sì allora un aspetto di cui non ho parlato qui poi arrivo alla questione di tabù è quello della gestione dei nuovi clienti della linea strategica dell'azienda e del marketing perché questo il focus di questo talk implicito se vogliamo è la gestione operativa dei progetti in corso perché se vogliamo parallelizzare cioè dare diciamo il massimo di parallelismo che non dipende da noi perché vogliamo tanti progetti ma perché il business in cui ci troviamo ha tanti clienti con commesse medio piccole quindi per gestire quel livello di complessità se centralizzassi esploderei come dicevo prima ok quindi quello è il motivo che ci ha portato a questo tipo di struttura il discorso dei tabù è una una questione ok caricaturare nel senso dire no tabù è chiaro che sono vestito seguo delle regole siamo educati c'è il rispetto dell'altra persona cioè i soft skills la autovalutazione che ci diamo ha anche questi aspetti qua cioè questa persona mi rispetta sì se vedo che uno non mi rispetta quello va fuori perché non è il modo di fare cioè siamo comunque un'azienda impostata in un certo modo con dei valori che devono trasparire devono essere chiari e dobbiamo arrivare a richiamare dall'esterno persone che cercano un'azienda di questo tipo quindi chiaro che era un'esagerazione un tabù però la realtà è che bisogna anche mettersi in gioco in quel senso lì cioè se uno va nel mezzo dell'ufficio e dice ragazzi ok cosa ne pensate uno mi dice no secondo me fa schifo io dico ok parliamone perché no tu non vai fuori no chiaro questo è l'apertura al dialogo verso un qualunque argomento senza tabù perché magari prima nella concezione di partenza il discorso era bene voi non preoccupatevi di nulla guardate il metro che dovete fare domani e al resto ci pensiamo noi voi non sapete nulla quindi non hai neanche idea di cosa di cosa succede nell'azienda ok quindi vanno letti in un certo modo in una certa prospettiva come dicevamo prima ok non c'è tempo ringraziamo ringraziamo Massimo e altre domande fuori per chi vuole c'è la lavagna con i feedback per lasciarsi i messaggi grazie 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 a tutti 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 grazie a tutti